Sono scesi in piazza a Catanzaro i medici del 118 convenzionati contro le differenze giuridiche ed economiche rispetto alla figura del dirigente medico. Una manifestazione per dire basta alla disparità di trattamento per quanto riguarda le ferie, la malattia retribuita, i congedi straordinari per aggiornamenti, il TFR e così via. Dobbiamo cercare di lavoratori che hanno identiche attività e devono avere il stesso tipo di contratto. Il convenzionato e il personale dipendente deve finire perché è come se tra i vigili del fuoco, tra la polizia, una parte avesse un contratto, una parte avesse un tipo di contratto nettamente peggiorativo rispetto all'altro. Si tiene di protesta oggi per sensibilizzare l'opinione pubblica, i politici, il commissario scura perché gli strumenti ci sono. Devono attivarli perché tutti i lavoratori che fanno un certo tipo di attività devono avere lo stesso contratto. Dunque, quello che si chiede è una normativa di transizione per l'emergenza 118 che prevede il passaggio alla dirigenza di tutti i medici in servizio convenzionati. Rossella Galati per la Cineus 24